Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia, ma che scemo feo. Che meraviglia invitarvi il 28 luglio a San Gabriele in provincia di Teramo per la 43esima manifestazione Tendopoli. I giorni di festa saranno 3, 28, 29 e 30 luglio a San Gabriele in provincia di Teramo. Il mio concerto sarà il 28 luglio, nel pomeriggio ci sarà l'arrivo e la sistemazione per tutti coloro che vorranno partecipare con gioia alla festa. Alle 18 ci sarà il saluto ai tendopolisti della Tendopoli e poi alle 20 la cena e alle 21 e 30 circa ci sarà il mio concerto nel Sunny di Mente Tour. Il tema di quest'anno è molto interessante ed è spicca il volo e si propone di denunciare tra le tante dipendenze anche la dipendenza dei giovani dai social e propone un cammino di formazione. Il logo sarà scappa dalla scarpa firmata e ci saranno anche i detti, le frasi, filosofiche, gli stili di vita come quella di Luis Sepulveda, vola solo chi osa, oppure quella di Papa Francesco, vola solo chi sogna, o perché no anche quelle di Povia, solo chi rischia è libero, meglio fallire che non agire, oppure si entra in campo per provare a vincere. È bello stare al mondo per provare a giocarsela, ma sarà una grandissima festa, ringrazio tutti coloro che hanno fatto in modo che si realizzasse, perché la festa è sacra, è motivo di aggregazione, di ritrovo e perché no anche di intrattenimento musicale. Ci sarà da mangiare per tutti, ringrazio Don Francesco, tutti i padri passionisti e i giovani della Tendopoli. Ci vediamo quindi nel mio caso, nel Sani di Mente Tour, per il mio concerto il 28 luglio a San Gabriele in provincia di Teramo, ma i giorni di festa saranno 3, 28, 29 e 30. Vi aspetto, ciao! Era l'Italia delle mille partite ai giardini, l'Italia che si amava senza telefonini, l'Italia che aveva il coraggio di dire anche no a noi figli e al mondo. Torneremo l'Italia dell'autoironia che imitava fantozzi ma anche totò, alla faccia di tutta questa burocrazia che ti sembra di stare in un reality show.